L'ex commissario regionale di Centro Democratico Vincenzo Varriale e il consigliere regionale Pasquale Difenza hanno formalizzato l'adesione all'associazione PER che ha fra i soci fondatori Barbara Preziosi, Ettore Rosato e Elena Bonetti. Una scelta maturata da tempo, forte del fatto che vi era una grande esigenza di lavorare ad un progetto politico di area moderata e riformista, spiega Varriale. Ascoltiamo. Noi siamo convinti che sia arrivato il momento di fare sintesi di tutti quei partiti, quelle associazioni, quelle realtà che hanno come ideali essere europeisti, popolari e soprattutto riformisti. Lavoreremo insieme a tutti gli amministratori che hanno creduto in noi e lo faremo sostenendo le maggioranze in tutti i comuni in cui siamo presenti. Le parole di Pasquale Difenza. In effetti va a raccogliere quelli che sono oggi un pochettino come dicevo prima i piccoli partiti, parliamo di un pochettino come possiamo dire anche degli scontenti, però più che altro l'associazione è un partito che sta crescendo tanto ed è il centro, quello che manca è quindi il terzo polo di cui noi abbiamo bisogno. Soddisfatto Ettore Rosato, eccolo ai nostri microfoni. Nasce dell'esigenza di tante persone che non si rassegnano al fatto che ci sia stato il fallimento dell'esperienza del terzo polo. Noi vogliamo continuarla, vogliamo continuarla insieme ad Azione, vogliamo continuarla insieme a tante persone che avevano aderito e che si sono viste tradite dalla rottura di quell'accordo.